Buon pomeriggio, ci ritroviamo poiché è chiaro che il 4 maggio ci sarà una ripartenza quasi totale di tutte le imprese del nostro paese e quindi anche della nostra area industriale. Noi, come sapete, non abbiamo mai chiuso, siamo rimasti aperti e disponibili ad accogliere tutte le richieste degli imprenditori che nel frattempo avevano difficoltà per la chiusura delle aziende ma anche per quelli che hanno deciso in maniera coraggiosa di riconvertirsi. Dal 4 maggio sicuramente dovremo riadattarci a questa nuova modalità di lavoro che sarà da un lato accompagnata dallo smart working ma dall'altro per le aziende di produzione sicuramente prevederà l'introduzione di tutte le misure previste dal governo e dalla regione Campania che serviranno a tutelare la salute dei lavoratori e il Consorzio ASI ovviamente nel frattempo si è adoperato per rendersi parte attiva in questo processo. Abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie per far sì che all'interno del nostro indotto industriale ci si possa rifornire di tutti i dpi previsti dalla nuova normativa. Abbiamo imprese che hanno deciso di convertirsi, che produrranno mascherine in provincia di Caserta, che produrranno le visiere in plastica isolanti e necessarie per alcune tipologie di produzione o per il contatto per il pubblico. Abbiamo aziende che stanno producendo i camici. Sono stata contattata da un'azienda che si occuperà della certificazione dell'igienizzazione di tutte le imprese e la incontrerò la prossima settimana. Questa cosa ovviamente dovrà essere molto veloce. Cercherò di mettere in contatto i vari soggetti che possono fornire servizi con tutti quelli che hanno l'esigenza di portare all'interno delle proprie imprese questa tipologia di tutela dei lavoratori e di tutela degli ambienti di lavoro. Ovviamente siamo tutti ansiosi di ripartire. Sappiamo benissimo che la pandemia ha portato a una grave crisi economica e dobbiamo essere pronti e soprattutto disponibili a sostenere le imprese per ripartire. ed è proprio per questo che ho istituito sin dal primo giorno una task force che intendo rafforzare, che si sta occupando di intercettare tutte quelle iniziative che possono essere utili in questo momento a sostenere le imprese per la ripartenza. Potete contattarci al numero del Consorzio ASI di Caserta e chiedere tutti i percorsi che sono necessari per la riconversione e chiedere consigli utili per l'adeguamento delle proprie imprese per poter ripartire al meglio. Ovviamente io sono molto orgogliosa del lavoro che il mio team è riuscito a fare. Resterò sempre accanto alle imprese per cercare di sostenere. Devo ringraziare la Regione Campania che ha dato la possibilità ai Consorzi ASI con in manovra proprio uno spazio dedicato ai Consorzi anche nel coordinamento di queste attività di riconversione. Stiamo facendo la raccolta dei dati di tutte le aziende che si convertono e le trasmettiamo alla Regione Campania in modo che queste attività possano essere poi in maniera sovraordinata, coordinate e utili al nostro territorio e anche a tutto il nostro paese. Ci vediamo presto. Il 4 si riparte. Siamo tutti pronti. Io sono particolarmente felice che si riprendano le attività produttive. Lo sono altrettanto. Se lo si farà, con la grande attenzione che fino adesso c'è stata in Campania, in modo da continuare a essere operativi, a produrre, ma a essere anche tutelati dal punto di vista della salute. Buona giornata.